buongiorno a tutti carissimi amici carissime amiche buongiorno benvenuti benvenute siete collegati in diretta con salvo 5.0 channel per questa edizione in orario non proprio normale rispetto alla maggior parte dei miscappa la diretta chi vi parla e salvo manderà in questo momento mi trovo a vigevano oggi è lunedì 14 aprile 2014 caspita quanti 4 14 04 2014 sono in questo momento le ore 11 e 31 minuti ma allora oggi intanto vi spiego perché questo mi scappa la diretta va in onda così tardi ma in rete così tardi ma perché vabbè oggi sono in ferie o a dire il vero ho preso due giorni di ferie uno venerdì e uno oggi diciamo che ho deciso di prendere questi due giorni di ferie intanto per avere la possibilità di riposarmi era un po in affanno diciamo nelle ultime settimane e poi perché volevo anche essere sicuro di avere tutto il tempo necessario per prepararmi per per la puntata di stasera sul salvo 5.0 che all'inizio doveva essere una puntata un po particolare in cui avrebbe dovuto esserci un collegamento in diretta con la sette con piazza pulita ma vi ho già spiegato in un altro mi scappa la diretta quindi non perdo tempo adesso se siete interessati trovate un mi scappa la diretta dedicato alla fine il collegamento non ci sarà ma la puntata ci sarà quindi oggi ben due appuntamenti diciamo a cominciare da questo pomeriggio e poi stasera quindi il primo appuntamento è l'intervista la classica intervista che c'è quasi tutti i lunedì anche se ho concordato con la persona intervistata che è una scrittrice si chiama giussi morabito di anticiparla quindi oggi l'intervista anziché alle 19 come avviene normalmente sarà alle 17 alle 5 del pomeriggio questo perché visto che appunto io oggi sono in ferie ho la possibilità di essere già in studio a casa in un orario in cui normalmente non sono a casa perché alle 17 sono ancora in ufficio normalmente io esco tra le 17 e 30 e le 18 e poi per avere più margine più tempo diciamo fra una trasmissione e l'altra visto che poi quella della serata sarà alle 21 attenzione alle 21 non alle 21 e 30 ok mezz'ora in anticipo e allora niente stamattina ho parlato con giussi morabito la quale è stata disponibile ad anticipare di due ore l'intervista quindi oggi alle ore 17 intervista con giussi morabito alle ore 19 e scusate alle ore 21 trasmissione classica serale gli ospiti di stasera saranno salvatore tamburro antonio pimpini cosimo massaro e diego fusaro sarà secondo me una bella puntata stasera perché veramente gli ospiti sono tutti veramente di prima grandezza ecco ciascuno nel loro campo salvatore tamburro è un economista che voi che seguite la rete sicuramente conoscete moltissimo perché è molto noto ha fatto tante conferenze eccetera è anche stato qualche volta già ospite di salvo 5.0 antonio pimpini è un avvocato un avvocato è anche un amico del professor giacinto auriti cosimo massaro è uno scultore un artista ed è anche uno scrittore anche lui è stato intervistato già qualche settimana fa su salvo 5.0 ha scritto diversi libri che parlano della truffa del debito della truffa dell'euro e di tutti i crimini legati alle persone che stanno intorno a questa truffa e poi appunto diego fusaro è un filosofo scrittore anche lui ha scritto dei libri naturalmente comunque un filosofo un docente all'università di filosofia anche lui è molto conosciuto perché è stato spesso in televisione l'ultima volta ieri sera l'ho visto alla gabbia anche se non ha avuto almeno fin quando ho visto io non ha avuto moltissimo spazio è stato dato tanto spazio a un stavo dicendo una parola offensiva a un signore del partito sciolta civica ecco che è veramente ha sparato delle balle a 360 gradi veramente in tutte le direzioni va bene quindi ricapitolando stasera salvatore tamburro antonio pimpini cosimo massaro e diego fusaro ecco e parleremo parleremo di di come si può organizzare un def documento di economia e finanza la vecchia finanziaria in modo alternativo a quelli che fanno i governi criminali che ci governano quindi tenendo presente di tutte le ricette che si potrebbero mettere in atto con un minimo di intelligenza e con un minimo di interesse appunto per salvaguardare gli interessi dei cittadini quindi per esempio avendo una moneta sovrana che viene stampata e data in credito ai cittadini da parte dello stato anziché una moneta a debito stampata da dei criminali e date in prestito contro interesse agli stati e poi ovviamente si possono affrontare i temi del taglio delle spese militari della riduzione in modo drastico delle tasse si possono ridurre le tasse anche del 50 per cento se ci togliamo diciamo la spada di damocle del dell'interesse sul debito perché l'italia paga circa 70 miliardi di euro all'anno di interessi su un debito immorale illegale detestabile quindi già pensate se noi ogni anno potessimo avere 70 miliardi in più da utilizzare e poi ci sono i 50 miliardi del fiscal compact che partiranno dall'inizio del 2015 e quindi insomma solo con questi soldi solo con questi soldi si potrebbe fare un reddito di cittadinanza si potrebbero ridurre le tasse del 50 per cento e poi ovviamente perseguire l'evasione fiscale ma prima vanno ridotte le tasse vanno ridotte le tasse almeno del 50 per cento anzi in uno stato ideale le tasse potrebbero anche non essere necessarie ma lasciamo stare questo è un po troppo rivoluzionario diciamo che si possono ridurre in modo sensibile diciamo del 50 per cento le tasse e poi ovviamente si può perseguire chi continua a non pagarle nonostante la riduzione del 50 per cento ovviamente si può perseguire la corruzione ma si devono abolire se non ridurre in modo drastico le spese militari e a quel punto si può dare un reddito di cittadinanza a tutti coloro che ne hanno bisogno 7 8 10 milioni di persone dare almeno 1000 euro 1000 euro a tutti quelli che ne hanno bisogno e i soldi si trovano facilmente perché già prendendo i 70 di interessi più quelli che si buttano nelle spese militari più tutti quelli della corruzione eccetera si potrebbe dare il reddito di cittadinanza a tutti gli italiani a tutti e poi lavorare potrebbe diventare se uno lo vuole fare una scelta volontaria ma anche questo è troppo rivoluzionario lasciamo stare ecco una spiegazione matematica del perché è così importante il debito gli interessi sul debito guardate dal 1980 a oggi l'italia ha avversato alle varie banche centrali la banca d'italia prima che era comunque privata e la banca centrale europea poi 3.100 miliardi di euro ripeto 3.100 3 1 0 0 3.100 miliardi di euro di interessi pagati dal 1980 a oggi il debito pubblico dell'italia è di 2.100 miliardi quindi se noi non avessimo dovuto pagare gli interessi sul debito avremmo un avanzo di mille miliardi mille miliardi dall'80 al 2014 al 2013 sapete cosa vuol dire questo provate a pensare cosa si può fare con mille miliardi mille mille miliardi in 30 anni dall'80 al 2013 mille miliardi in 30 anni sono veramente una grandissima paccata di soldi si potrebbe fare reddito di si sarebbe potuto fare reddito di cittadinanza la banda larga restaurare tutti i nostri beni culturali restaurare tutte le abitazioni pubbliche cioè le costruzioni pubbliche private fare cappotti termici aumentare l'efficienza energetica e quindi risparmiare sulle spese energetiche si potrebbe fare ricerca e sviluppo per per essere indipendenti energeticamente l'italia potrebbe essere indipendente energeticamente non comprare petrolo non comprare gas non comprare nulla andare avanti solo con le risorse rinnovabili di cui l'italia dispone ampiamente insomma un altro mondo è possibile un altro mondo è possibile basta solo volerlo ecco stasera alle 21 parleremo di questo ovviamente non potremo approfondire tutti i campi che io adesso ho accennato sarà orientata più dal punto di vista economico però ecco diciamo che questa è la sfida che stasera vogliamo lanciare al sistema di queste cose avremmo voluto parlare andando in diretta piazza pulita ma piazza pulita diciamo non ha accettato di fare entrare salvo 5.0 tutto intero quindi il canale con il logo con lo studio virtuale e con gli ospiti avrebbe voluto fare un collegamento con delle telecamere dentro casa mia per riprendere solo me cioè come è stato fatto la prima volta il 3 marzo questo è il motivo per cui il collegamento alla fine non si fa comunque ho parlato molto più ampiamente di questo qualche giorno fa e non mi scappa la diretta va bene carissimi amici quindi questo è il quanto quindi io adesso preparo l'evento facebook le locandine per queste due puntate di salvo 5.0 di oggi attenzione guardate che anche l'intervista con giusimo rabito sarà veramente una cosa stupenda vi invito a vederla non è una persona molto conosciuta probabilmente nessuno di voi o pochi di voi la conosceranno giusimo rabito se volete trovate già una brevissima intervista che io ho fatto occasionalmente avendola incontrata in una piazza di milano durante un evento pubblico ma è una persona stupenda veramente una donna eccezionale lei è stata in africa e innamorata letteralmente dell'africa e per questo ha scritto questo suo primo libro ed è questo l'argomento principale di cui parleremo oggi alle ore 17 vedrete veramente una donna stupenda quindi vi invito oggi alle ore 17 a vedere questa intervista con giusimo rabito e rimarrete colpiti dalla sensibilità di questa di questa donna e poi alle 21 puntata invece in cui si parla appunto di economia di un'economia alternativa a quella che fanno i governi criminali che governano l'italia da 40 anni e l'europa da da 40 anni ancora più bene questo è il quanto che cosa potrei aggiungere ancora sì fatemi dare un cenno su questa iniziativa con l'hashtag ti seguo sempre ecco facciamo girare questo hashtag se vi piace tutto è nato per caso sabato mi trovavo a torino alla fine della dell'incontro della gorà in piazza tra i cittadini eletti rappresentanti i nostri dipendenti e i cittadini elettori è arrivato un ragazzo molto simpatico si chiama enea che mi ha detto ehi ciao salvo sei grande wow ti seguo sempre eccetera allora io siccome non lo so ho avuto la percezione che questo ti seguo sempre fosse come capita spesso buttato lì così no perché la gente pensa che dire ti seguo sempre disponga positivamente la persona che in quel caso ero io insomma la persona interessata nei confronti di chi fa questa affermazione però io ho avuto il sospetto che questa cosa ti seguo sempre non fosse del tutto vero allora io ho cominciato a fare delle domande per capire se era vero in effetti questo simpaticissimo amico enea non mi aveva mai seguito o perlomeno aveva seguito lo tsunami tour l'anno scorso ma poi non sapeva nulla di me del fatto che io ho un canale youtube che faccio le mie trasmissioni tutti i giorni mi scappa la diretta il mercoledì le puntate eccetera allora mi sono divertito un po a prenderlo in giro ma bonariamente naturalmente infatti siamo diventati amici e secondo me è una persona veramente simpaticissima e allora veramente l'ho sfottuto per un po c'erano anche altri amici che nel stato tempo si sono avvicinati e insomma ci siamo un po divertiti alle sue spalle ma sempre in senso bonario ecco non sono il tipo che esagera almeno spero di non aver esagerato ma non credo perché poi appunto abbiamo fatto tante chiacchiere dopo siamo diventati amici su facebook eccetera quindi è nato veramente un rapporto simpatico di amicizia e allora dopo una di uno degli avventori che era lì intorno che si chiama gabriele detto salvo ma perché non lanciamo una stag ti seguo sempre visto che io appunto già in altre occasioni avevo scherzato su questa cosa no appunto che diciamo l'italiano in generale un po così un po piacione quando parla con qualcuno deve sempre dirgli dai sei forte vai vai spacca no siamo così noi italiani dai siamo un po così questa cosa me la dice sempre la mia compagna che per chi mi conosce per chi mi segue sempre sa che non è italiana angela la mia compagna è del madagascar e lei dice massivo italiani siete così infatti quando io ho lanciato il mio progetto il 19 dicembre ovviamente ero ottimista dicevo massi vedrai che la gente nel giro di un mese arriveremo ai 50 mila euro di target perché tutti mi seguono tutti mi amano mi 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 dimostrano un sacco di effetto e lei mi ha detto tranquillo guarda che non è così ci sono tanti che ti che ti apprezzano per carità ti vogliono bene ma molti italiani parlano parlano ma poi quando si tratta di fare qualcosa non è esattamente così e devo dire purtroppo angela aveva ragione perché la pagina in cui parlo del progetto è stata vista circa 20 mila volte adesso non mi ricordo 18 19 mila 20 mila volte comunque insomma un bel po di volte diverse migliaia di volte e poi invece le donazioni sono 550 che sono tantissime cioè io sono estremamente grato ecco non vorrei sembrare un ingrato io sono estremamente grato a tutti e a tutte coloro che finora hanno già fatto delle donazioni fra l'altro c'è qualcuno che ne ha fatto anche più di una diverse persone io non lo so perché non è che riesco a controllarle una per una però ci sono alcune persone che hanno fatto due tre quattro donazioni e questa cosa io ci rimango male quando me ne rendo conto ecco quindi io quando mi accorgo mando una mail a questa persona dicendo ti prego interrompiti smetti fermati non fare altre donazioni non possiamo salvare il mondo noi pochi dobbiamo aumentare la base anche ieri un altro carissimo amico che si chiama renato mi ha scritto senti salvo io ho pensato da domani ti faccio un bonifico di 10 euro al mese e invito tutti gli altri a fare la stessa cosa ho detto ti prego renato fermati non serve non possiamo noi salvare il mondo noi 550 da soli dobbiamo allargare la base è un po come il discorso dell'evasione fiscale cioè in un mondo in cui c'è forse il 30 per cento degli italiani che non paga le tasse poi ci sono tutti gli altri forse anche di più del 30 per cento poi ci sono tutti gli altri che devono pagare di più mentre si potrebbero abbassare le tasse del 50 per cento e torniamo a quello che dicevo prima sull'economia no se togliamo gli interessi sul debito eccetera si potrebbero abbassare le tasse del 50 per cento e pagare le tasse tutti ecco noi dobbiamo aumentare la base da 500 dobbiamo diventare 3000 ecco se fossimo 3000 non sarebbe necessario fare ulteriori donazioni quindi caro renato se mi stai guardando e tutti gli altri che avete già fatto una o più donazioni vi prego astenetevi da farne altre piuttosto inventiamoci qualcosa tutti insieme io qualche idea ce l'ho devo solo avere il tempo di riuscire a metterle in pratica fare dei volantini degli adesivi da distribuire quando ci sono degli eventi ecco questa è una delle idee che ho avuto poi ho già fatto un'intervista a proposito un paio di venerdì fa ho fatto un'intervista molto lunga di un minuto sì scusate di un'ora e 22 minuti un'ora e 22 un'intervista veramente lunga con la 7 una giornalista fantastica della 7 che si chiama simona buonomano allora lei ha già fatto un servizio che parla di salvo 5.0 l'anno scorso è andato su tg la 7 cronache ecco se andate sul canale youtube salvo 5.0 e cercate fra i video tg la 7 cronache o anche solo la 7 troverete alcuni video e uno di questi è proprio tg la 7 cronache è un video che dura pochi minuti 4 minuti credo o 3 o 4 minuti ecco c'è il primo minuto in cui si parla della cosa e poi dal primo minuto in poi si parla di salvo 5.0 e già lì avevo avuto modo di apprezzare lo stile giornalistico di simona buonomano adesso lei non lavora più a tg la 7 cronache lavora per l'aria che tira che è un programma che a me onestamente non è che mi faccia proprio impazzire non apprezzo moltissimo quel programma però invece conoscendo già simona come giornalista mi sono lasciato convincere a fare questa questa intervista praticamente dal 22 al 28 aprile se ho capito bene e ci saranno alcuni giorni in cui la trasmissione non andrà in diretta tipo talk show ma manderà appunto delle pillole di 10 minuti bene in una di queste date che deve essere ancora decisa dal 22 al 28 e ci sarà appunto la mia intervista che andrà in onda su all'interno dell'aria che tira e sarà un estratto di 10 minuti ecco 10 minuti non tutta un'ora e 23 22 però considerate 10 minuti sono veramente un'eternità per i tempi televisivi e non è poco un'intervista montata di 10 minuti bene proprio stamattina simona mi ha dato la conferma che il suo pezzo finale di 10 minuti del quale mi aveva più o meno detto quali erano i pezzi che aveva montato eccetera sono stati apprezzati moltissimo dalla redazione dalla dalla conduttrice del programma la signora merlino e e quindi insomma il suo pezzo è già pronto congelato per essere mandato in onda appunto in una data da definirsi tra il 22 e il 28 aprile un'ora e trenta dopo che sarà andata in onda l'intervista montata di 10 minuti di simona io avrò la possibilità di pubblicare sul mio canale l'intervista integrale che ovviamente ho registrato quando abbiamo fatto l'intervista io anzi vi dico una cosa io l'ho già messa sul tubo quell'intervista però in questo momento è non visibile quindi può vederla solo chi ha il link infatti i miei parenti l'hanno già vista e anch'io l'ho guardata un po di volte bene quindi un'ora e mezza dopo che sarà andata in onda l'intervista sulla 7 tagliata un montaggio di 10 minuti io potrò per contratto firmato tra le parti cioè tra me e la 7 lo studio legale della 7 potrò divulgare l'intera registrazione integrale ecco per esempio questa intervista è un'altra cosa che mi auguro aiuti il progetto salvo 5.0 visto che durante l'intervista ne parliamo in modo molto approfondito ovviamente nel montato di 10 minuti probabilmente qualcosa non ci sarà ma comunque ci saranno ampi stracci anche perché questo era un patto fatto con la giornalista con simona della quale mi fido ciecamente quindi all'interno dei 10 minuti ci saranno almeno tre o quattro minuti forse anche cinque in cui si parlerà in modo approfondito del progetto quindi immagino che quello sia un modo sicuramente per far sapere dell'esistenza di questo progetto alla fine 550 donazioni sono tantissime se penso ci sono circa 500 persone che hanno già fatto una donazione è una roba da andare da svolazzare dalla felicità ma se pensiamo che in italia siamo 60 milioni che gli attivisti del movimento 5 stelle che immagino compongono il 90 per cento delle persone che mi conoscono sono comunque centinaia di migliaia dico caspita 500 siamo veramente pochi cioè arrivare a due o tre mila dovrebbe essere proprio una cosa così ecco ovviamente gli italiani siamo così che dicono ti seguo sempre e poi però quando c'è da fare qualcosa di concreto siamo calmi siamo molto calmi va bene allora fatemi leggere un po la chat e poi vi lascio perché devo fare allora oggi stamattina caspita è già mezzogiorno fra poco arriva angelo dobbiamo pranzare e poi mi devo preparare per quello che le cose devo fare nel pomeriggio ma devo ancora fare la locandina dell'intervista con con giusi la locandina della puntata serale l'evento facebook aprire i due video su youtube in modo da divulgare i link divulgare tutto quanto queste sono le cose più urgenti poi devo continuare alla lettura di un libro ecco io sto leggendo un libro che parla del nostro presidente della repubblica innominabile giorgio napolitano che già quando tu alla camera al senato lo nomini succede già un putiferio ecco sto leggendo questo libro perché ve lo dico dopo perché sto leggendo un libro perché la lettura di questo libro diciamo è l'atto preliminare per fare una cosa che che ha a che fare con questo libro vi dirò più avanti cosa devo fare insomma queste sono alcune delle cose che devo fare oggi poi ho anche alcune cose di tipo burocratico da gestire un paio di queste anche molto importanti che riguardano diciamo la mia vita privata e quindi insomma ho veramente tante cose da fare oggi mi sono alzato tardi perché sabato sera dopo dopo la serata a nichelino sono rimasto in giro fino alle tre abbondanti sono arrivato a casa che erano le tre dieci le tre un quarto perché dopo lì dopo che è finito l'evento gli amici locali fulvio favate tutti gli altri dai salvo andiamo a berci una birra insomma alla fine sono partito da lì che erano quasi le due e sono arrivato a casa che erano le tre abbondanti quindi avevo un po di ore di sono da recuperare ieri pomeriggio ne ho recuperata qualcuna ma stanotte ho fatto il resto quindi è andato a letto non tardi non ho neanche finito di vedere la gabbia insomma dopo il servizio stupendo ecco questo bisogna dare atto a a paragone ha mandato un servizio dove parla ancora una volta delle privatizzazioni del titolo quinto eccetera grande mi piace molto quel giornalista lì non ricordo il nome però quel giornalista lì di paragone mi piace veramente tantissimo quello che ha fatto quel servizio lì ecco dopo quel servizio lì ho assistito ancora pochi minuti alle cose che diceva diego fusaro claudio borghi eccetera poi la prima volta che hanno inquadrato quella faccia lì di quel signore di sciolta civica ho spento il televisore sono andato a letto e stamattina mi sono alzato alle dieci abbondanti va bene leggiamo la chat e poi vi saluto allora 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 saluti ciao salvo ci sarò un governo sovrano può creare tutti i soldi che ha bisogno senza tassare appunto bravo domenico noi stiamo aspettando che lavoriamo nei centri commerciali che qualcuno ha co ciao salvo sono gabriele del mi scappa la diretta flash di piazza castello ehi ciao gabriele eccolo ecco petruccio 83 lui è è lui il gabriele che mi ha dato l'idea di lanciare l'hashtag ti seguo sempre ivan 99 di regolamentare le aperture festivi che sono diventato una vergogna siamo a pe allora questa è la seconda parte del messaggio di ivan quindi noi stiamo aspettando che lavoriamo nei centri commerciali che qualcuno ha co di regolamentare accolga forse la proposta di regolamentare le aperture festivi che sono diventato una vergogna sono d'accordo ivan guarda se ti interessa questo argomento sul canale salvo 5.0 trovi un'intervista che ho fatto l'anno scorso durante lo tsunami tour alla d'andrea com'è che si chiama di nome di cognome d'andrea sicuramente di cognome non mi ricordo in questo momento comunque una ragazza che lavora o lavorava era anzi un'imprenditrice che appunto aveva problemi proprio per questo discorso no domenica ecco quindi se tu cerchi d'andrea all'interno dei video di salvo 5.0 troverai questa intervista dove si parla proprio di questo argomento non ci posso credere ti ho beccato in diretta che bello dice luciano corradin e addirittura ci siamo beccati buongiorno salvo e a tutti bene ci farai sapere dice vito chiarello poi gabriele gabriele ricca il video di salvo di sabato è venuto di soli 20 secondi come di soli 20 secondi gabriele fammi controllare aspetta che c'ho già il computer acceso di 20 secondi caspita non me ne sono accorto fammi vedere quanto dura no dura un minuto e 34 no gabriele guarda che dura un minuto e 34 ti prego di andare a controllare silvia baldino e silvia ciao silvia una mia amica di vigevano salvini ha iniziato la sua campagna grillo non ha le palle l'hai vista no silvia non l'ho vista antonio bisogno bella fregatura ho fatto la donazione e dalla germania non posso né neanche vederti ma caro antonio non puoi vedermi in diretta però puoi vedere la registrazione a me dispiace tantissimo carissimo antonio sai qual è il problema che si pensa di essere in una in una unione europea democratica ma la germania non è affatto un paese democratico se permette una cosa del genere io ho capito perché in germania youtube non va in diretta me l'ha spiegato proprio il supporto tecnico di youtube praticamente in germania c'è la gema che la siae tedesca che siccome non vuole spendere risorse diciamo così per controllare i programmi in diretta per per vedere eventuali infrazioni sul piano dei diritti d'autore ha tagliato corto e ha obbligato youtube a non trasmettere in diretta capite cioè questa è una cosa assurda nel 2014 siamo ancora in germania peggio del medioevo questa cosa vorrei che si sapesse anzi antonio ti prego di dirla di divulgare questa cosa dal punto di vista della libertà di informazione in questo caso specifico con youtube la germania è peggio del burundi youtube non può trasmettere in diretta in germania perché c'è la gema che la siae tedesca da quello che ho capito che glielo impedisce perché non vuole non per non vuole perdere tempo a controllare le trasmissioni in diretta nel per capire se ci sono delle rotture diciamo dei diritti d'autore e quindi hanno tagliato corto semplicemente youtube non può trasmettere in diretta in germania ma ci rendiamo conto dell'assurdità della cosa quindi caro antonio io sono con te e ti capisco e mi dispiace tantissimo se vuoi ti restituisco anche la tua donazione perché capisco che vedere una cosa in diretta è piacevole perché uno può anche commentare partecipare mi sento molto in colpa ma capisci bene che non è colpa mia è colpa diciamo di youtube che non ha avuto le palle forse di negoziare con gema e sicuramente di gema in germania ecco posso dirti io veramente sto pensando seriamente di trovare anche una piattaforma alternativa youtube è ovvio che nel momento in cui riuscissi a fare questo passo te lo farò sapere tu e eventuali altri ascoltatori in germania saranno contenti poi sempre petrucci dice eccomi logato col mio account facebook se no non mi riconosci ti seguo sempre va bene poi mono bello ciao salvo antonio usa il plugin per cambiare proxy in modo da sembrare bravo grazie molo bello infatti ieri pensavo una cosa del genere grazie grazie molo bello antonio guarda che lui ha ragione secondo me c'è un modo per esempio per esempio io a volte quando entro raramente su youtube dall'ufficio vedo che a volte risulto come se fossi in germania non so perché e infatti vado su youtube beh e in quel caso lì non posso vedere alcuni video altre volte invece entro come se fossi in francia vabbè perché la mia ditta molti server in francia in effetti quindi secondo me c'è un modo per sembrare di trovarsi da qualche parte diversa dalla germania quindi ti prego di informarti approfondisci quello che ti sta scrivendo molo bello potrebbe essere una soluzione ok va bene grazie mi dici che non devo restituire niente ti ringrazio io veramente mi dispiace questa cosa perché capisco che è frustrante voler vedere una cosa in diretta e non poterla guardare per una sorta di censura quindi sono con te però ti prego antonio approfondisci potresti anche riuscire magari non so quanto tu sia esperto di computer ma magari potresti trovare qualcuno che ti può aiutare domenico io non so se vimeo permette di andare in diretta io conosco chi mi ha anzi ho già un account anche se ho caricato pochissimi video però credo che vimeo sia un po come youtube per le cose registrate ma non per la diretta quindi non so anzi mi pare che vimeo non offra la possibilità della diretta ok ma ci sono altre piattaforme che offrono proprio dei veri e propri canali televisivi online anzi uno di questi mi aveva anche contattato facendomi un'offerta solo che poi non l'ho più sentiti ecco proxy switch pro proxy switch questo è l'applicazione il plugin ecco secondo molo bello garantonio mi raccomando informati vedi se riesci a a travestirti da da italiano o da francese o da o da belga in modo da girare l'ostacolo di gema in germania va bene carissimi amici io allora vi saluto auguro a tutti voi una stupenda giornata un ottimo lunedì un buon inizio settimana quindi vi ricordo ancora una volta ci vediamo alle ore 17 per chi di voi non è in germania antonio subito dopo alle 18 potrai guardare la registrazione dell'intervista che farò con giusimo rabito e poi alle 21 altra diretta e tu antono la potrai guardare dopo diciamo dalle 23 23 30 in poi oppure domani o quando vorrai tu con calma altra trasmissione di economia in cui presenteremo un def alternativo gli ospiti saranno salvatore tamburro antonio pimpini cosimo massaro e diego fusaro va bene carissimi amici io vi ringrazio di avermi seguito ringrazio tutti voi per i vostri commenti saluto ancora una volta uno per uno e una per una tutti voi e tutte voi un abbraccio affettuoso e ci vediamo nel pomeriggio alle 17 e stasera alle 21 buona giornata tutti grazie ciao